Allora, ciao a tutti, abbiamo Diego, poi abbiamo Gianni, Arikian Polimar, con la donna, con la donna, Antonio, il più tranquillo veramente, questo forzo, mi metti il cappello, mi amore che sta sfornando, amore, fatti vedere, e poi ci sono, io, quello in cui, no, il coso? Scusami, ora si, senti pure a me, è l'ultima arrivata, che è scappata, Giada, o ti sei rinfilata lì sotto, vabbè, tanto già la mondo scende, Giada.